Volevo parlare di una cosa un po' particolare. Diciamo che è anche una sorta di polemica. Noi, videomaker e fotografi, abbiamo realmente bisogno di essere invisibili durante il nostro lavoro? Silenziosi? Dall'inizio alla fine? Oppure abbiamo la necessità di essere qualcosa in più per ottenere dei risultati? Ho bisogno di rompere questo muro. Allora, c'è una notevole differenza tra il ragazzo che è lì per registrare e il ragazzo che è lì per registrare un video matrimoniale e deve farlo in maniera creativa. Quindi, come posso fare questo? La risposta è stando vicino alle persone. Cerco e voglio spontaneità. Allo stesso tempo, però, voglio che la gente si senta a proprio agio. Esempio perfetto. Riprendere una reazione emozionante della mamma e riuscire a farlo senza darle fastidio. Questo, però, mi porterà un notevole vantaggio in fase di montaggio nella costruzione della cerimonia, nella costruzione della festa. Quindi la risposta è io non posso essere invisibile ad un matrimonio.